Vogliamo più tutela per quanto riguarda i lavoratori che siano stranieri o italiani, ci va tutela per un lavoratore perché è un suo diritto essere tutelato mentre svolge la sua mansione. In questo caso, ahimè, bracciante, di cui ovviamente non se ne parlerà così a lungo, quindi questo dispiace un po'. Per cui noi ci troviamo qua oggi per dare il nostro contributo e per dire che allo Stato noi esistiamo e non siamo dei fantasmi, tanto è che paghiamo le tasse qua. Io sono qua da 18 anni, sono cresciuto qua, come puoi benissimo sentire, mi esprimo in italiano, mangio in italiano. Questo fatto molto grave che è successo a Vibo Valencia. Sono stati lanciati dei presidi un po' in tutto il territorio nazionale per dare una risposta immediata a questo fatto grave che è avvenuto a Vibo Valencia dove un lavoratore, un bracciante del settore dell'agricoltura è stato ucciso a freddo in un momento in cui stava cercando probabilmente di prendere dei pezzi di lamiera per farsi la baracca perché purtroppo queste persone sono lavoratori ma sono privi di diritto e non hanno neanche la possibilità di avere un alloggio che sia dignitoso e vivono in baracca. E questa situazione noi la denunciamo da mesi e da mesi che permane, da mesi che succedono dei fatti preoccupanti e purtroppo è arrivata la tragedia. La prima cosa è la casa, quando uno ha la casa poi appunto dare le altre possibilità di cercarsi un lavoro eccetera. Questo ragazzo fra l'altro era regolare e poi lottava per i diritti degli altri. Si preoccupava non solo di se stesso ma di aiutare nelle difficili condizioni i propri colleghi di lavoro che dobbiamo dire sono condizioni quasi barbare quelle in cui noi abbiamo finora costretto a vivere questi lavoratori. Cosa si può fare secondo voi? Quello che si può fare diciamo noi come nostra parte civile dare immediata possibilità di aiutare. L'USB ha lanciato anche una sottoscrizione per aiutare una raccolta, per lanciare una raccolta fondi per riportare la salma nel proprio paese. A livello politico c'è una responsabilità grande, un campo enorme di responsabilità. Come ti senti accolto dalle persone? Guarda allora mi sento abbastanza accolto nel senso che le mie amicizie sono variegate. Ho l'amicizia arcobaleno la chiamo io perché sono colorati. L'Italia negli ultimi tempi più che altro sta andando un po' a scemare il fatto dell'accoglienza, il fatto dell'intolleranza, il fatto dell'apertura mentale delle persone. Questo dispiace un po' perché io sono qua dal 2000 e diciamo che le cose stanno un po' diventando gravi. Eventi brutali di questo genere non debbano mai più ripetersi. Bisogna partire dalla lotta per i diritti, bisogna partire dalla lotta per la dignità. Costruiscono muri per chiudere le menti, operano per renderli in orchestra di muti, speculatori delle vite dei profughi, si girano dall'altra parte per i troppi lamenti. Corridori per i corridoi umanitari, fanno troppi apericene con i cari compari. Qui in vino verità, meglio ancora col campari. Tu non dir la verità perché altrimenti scompari. Grazie mille. Grazie mille.